Allora, buongiorno a tutti. Benvenuti nella nostra facoltà. In qualità di preside non posso che darvi il benvenuto. Sono molto felice di farlo oggi perché il convegno che ci vede tutti coinvolti a riflettere insieme su uno dei temi, dei grandi temi del momento che ha raggiunto gli stadi della grande attualità quest'estate, come tutti sappiamo, è un'occasione ottima di dialogo tra l'università e uno dei più importanti operatori del settore, la società Autostrada del Brennero, con il quale la nostra facoltà ha condiviso l'organizzazione di questo evento. È una bella occasione per parlare di cose molto attuali, molto sentite, molto importanti e per farlo in modo scientificamente profondo e rilevante. Quindi è davvero una bellissima occasione e devo proprio ringraziare nuovamente Autostrada del Brennero per questa disponibilità e la collega Barbara Marchetti che ha organizzato questo evento proprio in contatto con Autostrada del Brennero. L'occasione nasce anche dalla pubblicazione di un libro curato dal professor Saltari e mai pubblicazione fu così tempestiva perché l'attualità del tema effettivamente la giustifica in pieno e quindi avremo davvero modo di coniugare tanti aspetti, la ricerca, il confronto convenistico, il confronto su temi di stretta attualità e anche il confronto su un istituto che avremo modo, io credo, di vedere molto bene, non è più possibile considerare come un qualche cosa di confinato. Oggi forse non si parlerà di concessioni e basta, si parlerà di uno strumento di governance e di regolazione. La concessione è qualcosa che va di fuori dei suoi stretti confini ormai, soprattutto quando ha ad oggetto beni e o servizi così rilevanti. Quindi credo che avremo proprio modo di sperimentare la possibilità di spingere la riflessione oltre questi confini come ormai doveroso fare. Quindi ringrazio nuovamente tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo convegno. Non posso che augurare buon lavoro, passando subito la parola al professor Falcone che presiderà la sessione di questa mattina. Grazie ancora a tutti. Grazie al preside della facoltà di giurisprudenza per questo suo saluto introduttivo. Non è un saluto come tanti altri, colui che porta i saluti poi si allontana rapidamente. Qui il saluto ci è stato fatto da uno dei protagonisti di questo incontro che ritroveremo nel pomeriggio come componente della tavola rotonda, quando saremo noi a salutarlo non più come preside ma come partecipante alla tavola rotonda. Come il professor Cortese ha già detto, questo incontro nasce anche con l'idea di presentare un volume che è un volume insieme fortunato e un po' sfortunato. Perché è fortunato perché come vedete è uscito molto tempestivamente e incrocia il tema di oggi che è un tema divenuto attualissimo. È sfortunato perché forse non sarà così semplice procurarsene una copia in questo momento ma contiamo che tra poco invece diventi molto più facile. Il regime giuridico delle autostrade non solo in Italia ma in Europa e nelle principali esperienze straniere. È un libro che il professor Saltari non ha scritto da solo, lo ha curato insieme al dottore avvocato Tonetti con la partecipazione di molti autori, alcuni presenti qui e in particolare presenti qui la professoressa Conticelli che tra poco ascolteremo. Io non ho il compito di fare relazioni introduttive, ho soltanto il compito di presiedere questa prima parte. Questa prima parte come avete visto dal titolo riguarda prevalentemente la regolazione mentre la tavola rotonda di questo pomeriggio avrà un contenuto più concreto e un più diretto riferimento alle esperienze e in particolare all'esperienza che ci è in questo momento più vicina. Io faccio solo un'osservazione, è difficile pensare ad un tema, ad una situazione, ad una infrastruttura che in modo più evidente dimostri che non esiste separazione tra livelli di interesse. Intorno all'autostrada, è chiaro, l'autostrada incrocia interessi giganteschi, tutti sappiamo le grandi vie di comunicazione europee ma incrocia anche gli interessi locali, super locali sia per l'impatto fisico della struttura sul territorio questo è evidente, sia anche per l'impatto non fisico perché vicino al casello dell'autostrada nasce una vita economica e giuridica del tutto diversa dalla situazione dei luoghi che invece sono solo attraversati dall'autostrada e magari sono distanti 30 km dal casello più vicino. Quindi l'autostrada si appoggia nel territorio e crea localmente degli impatti giganteschi e delle differenze gigantesche. Per alcuni è solo un peso, per altri può essere anche una gigantesca opportunità. Impossibile distinguere interessi locali e interessi. La cosa migliore è riuscire a metterli insieme, a riuscire a trovare delle soluzioni condivise. Oggi parliamo di questo, oggi parliamo non delle autostrade dal punto di vista dell'impatto ambientale o da altri punti di vista dai quali si potrebbe parlarne ma essenzialmente da un punto di vista organizzativo e gestionale. E io mi auguro che a fine mattinata i contributi che abbiamo, che vengono da persone che hanno grande esperienza nel settore, possiamo dire non solo di avere speso bene una mattina, di questo sono sicuro, ma anche di avere le idee più chiare sulle regole che governano questo fenomeno. A questo punto io ho senz'altro la parola al professor Saltari, che ringrazio di essere qui, come tutti, come gli altri colleghi che sono qui, per presentare la prima relazione, lasciando a lui, diciamo così, la spiegazione del suo tema. Grazie Presidente. Intanto voglio ringraziare davvero di cuore l'Università di Trento, la professoressa Marchetti, il professor Cortese e anche ovviamente l'avvocato Olivieri, nonché il professor Falconna per l'invito a questo convegno di questa mattina. Il tema che mi è stato assegnato è quello di spiegare il modello della cooperazione interistituzionale nella gestione delle concessioni autostradali. Incentrerò la mia relazione, cercando di contenerla nei tempi, attorno a sei punti principali per poi trarre una conclusione. I punti sono sostanzialmente questi. Partirò da una ricostruzione rapida del modello giuridico delle autostrade, sottolineandone la natura plurale, tanto lungo la direttrice pubblico-privato quanto quella centro-periferia. Soffermerò la mia attenzione sulla svolta che vi è stata nel settore, la svolta giuridica del 1993, la privatizzazione della attività di gestione e costruzione. Tratterò poi rapidamente di come la materia delle concessioni autostradali sia stata attratta dal diritto dell'Unione Europea, in particolare dalla direttiva concessioni, chiudendo questa riflessione attorno alle deroghe all'affidabilità per gara delle concessioni anche autostradali. Perché il centro della mia relazione è una delle deroghe possibili all'affidamento delle concessioni. La deroga può essere l'affidamento in house, un'altra possibile deroga è quella dell'accordo tra istituzioni. Rispetto alla bozza di accordo in questo momento, in queste ore, anzi è in programma oggi pomeriggio l'esame da parte del Cipe della bozza di accordo che riguarda proprio la 22 che è stata redatta abbastanza faticosamente nelle settimane precedenti. Ecco, intorno alle versioni iniziali di questo accordo, la Commissione Europea ha sollevato dei dubbi. Ecco, proverò a indicare le ragioni di dubbio della Commissione e poi mi permetterò di criticare questi dubbi della Commissione. Chiuderò con una riflessione circa la valenza paradigmatica del modello. Come dicevo, secondo me è importante partire da un inquadramento di insieme. Perdonatemi questa incursione nella storia, le concessioni autostradali nascono nei primi anni del Novecento ma il loro paradigma di riferimento erano le concessioni ferroviarie dell'Ottocento. Da qui deriviamo che cosa? Che la prima esperienza è un'esperienza caratterizzata da un ruolo protagonistico da parte dei privati. Sono i privati che promuovono, che trovano i finanziamenti, che costruiscono e gestiscono. Questa esperienza che corre lungo gli anni che vanno dal 22 al 35, appunto si interrompe nel 35 a seguito della crisi legata alle sanzioni che l'Italia subisce, per cui i privati falliscono e subentra lo Stato che riscatta queste concessioni. La seconda grande pubblicizzazione la si avrà in realtà nel secondo dopoguerra, dove il settore finalmente decolla. Qui vi sono tre modelli di pubblicizzazione. Intanto la legge romita del 55 individua in una società dell'IRI, la società autostrade, concessioni e costruzioni, il perno del sistema. E questa società in pubblico comando è un modello di gestione statale indiretto che prenderà sulle proprie spalle la responsabilità della promozione del settore. Lo farà iniziando con la mitica realizzazione, la mitica costruzione dell'autostrada del sole che tra gli anni 50 e gli anni 60 costituisce il primo grande esempio di autostrada. Nel 61 il settore viene, la disciplina del settore viene completata con la legge Zaccagnini che intanto dice che autostrade diventa il titolare di un sistema di concessioni autostradali ed è il modello che verrà sostanzialmente ripreso e arriva fino ai giorni d'oggi e poi si stabilisce che dove Autostrade per l'Italia non interviene sarà l'ANAS, cioè un organo pubblico, quindi un modello pubblico diretto a occuparsi del restante sviluppo del settore. È molto noto che la società dell'IRI non voleva fare la dorsale tirrenica meridionale e affiderà all'ANAS questa responsabilità. L'ANAS costruisce e gestisce la Salerno Reggio Calabria. Ma accanto a questi due modelli statali, indiretto e diretto, vi è una terza possibilità di gestione pubblica, quella ad opera di società che hanno nel proprio capitale enti territoriali. Sono autostrade generalmente di latitudine, di dimensione minore, sono molte le iniziative in questo senso ed è questa la ragione per la quale oggi abbiamo più di 25 concessionari autostradali che si riuniscono attorno all'Iscat ed è l'A22, l'oggetto di cui parliamo in maniera particolare oggi, una di queste iniziative. Con la differenza che l'A22 rispetto ad altre iniziative è un'autostrada non di piccolo momento perché in realtà ha un tracciato autostradale che è secondo soltanto autostrade perché ha un'infrastruttura di oltre 300 chilometri e lega ben quattro regioni. Quindi tre modelli, due statali, uno locale. I modelli statali sono uno indiretto, è quello prevalente, uno residuale, è quello diretto. Nel 1993, dicevo, vi è la svolta dell'assetto giuridico del settore perché sino a questa data le imprese autostradali per legge erano vincolate all'equilibrio economico-finanziario. Le tariffe, i pedaggi che raccolgono dagli utenti devono servire a tenere in equilibrio i conti della impresa, ad ammortizzare gli investimenti e appunto stare in equilibrio. La disciplina del 1993 dice che questo assetto può essere superato. L'impresa di concessione autostradale è un'impresa normale quindi può creare utile, può creare valore e lo può distribuire tra i soci. In più viene stabilito che non è più legalmente necessario che la società autostrade per l'Italia così poi prenderà la denominazione e la società dell'Ini non debba avere un controllo pubblico necessario. Queste naturalmente sono le precondizioni per le privatizzazioni soggettive di alcune delle imprese concessionari autostradali. Naturalmente la più importante privatizzazione è quella che si verifica, che si realizza nel torno d'anni che va dal 99 al 2002 che è la privatizzazione di autostrade. Ma non è l'unica privatizzazione. In quel caso autostrade aveva una rete interconnessa e viene tutta quanta privatizzata viene tutta portata nel controllo di un soggetto privato. Specialmente nel nord-ovest ad opera di concessionari locali si realizzano un insieme di cessioni societarie che andranno a vantaggio del gruppo Gavio gruppo che non ha un'unica concessione ma controlla diverse società concessionarie attraverso il controllo congiunto di queste concessionarie Gavio è il secondo concessionario privato dopo autostrade. Dicevo, la privatizzazione è una privatizzazione o meglio è una normalizzazione dell'attività di impresa non è una privatizzazione della gestione il che voglio dire non viene imposto che i gestori autostradali debbano essere per forza necessariamente privati e noi voi lo sapete benissimo ad esempio a 22 anche dopo il 93 continua a gestire la autostrada pur essendo una società in controllo pubblico lo scenario che si disegna quindi è quello di uno stato imprenditore che tendenzialmente esce dal settore ma rimangono delle significative aree dei significativi esempi di gestione in comando pubblico per lo più in comando pubblico locale vediamo come il diritto europeo interviene in questo ambito intanto lo accennava Fulvio Cortese il professor Cortese nel suo saluto introduttivo implicitamente quello delle concessioni autostradali è un settore nel quale non si è sviluppata una adeguata riflessione dottrinaria nel senso che le concessioni autostradali sono considerate dalla scienza giuridica e quindi anche dal legislatore europeo come una parte del più ampio settore delle concessioni io ho molte perplessità che questo sia un approccio valido ma alla fine dei conti ne discende che quando poi il diritto europeo sbiadirà la dimensione pubblicistica dell'atto concessorio e lo definirà un contratto di concessione e quando poi il diritto europeo con la direttiva 23 del 2014 emanerà una disciplina organica sistematica in materia di concessioni abbiamo che anche le concessioni autostradali vengono attratte nell'orbita dei contratti di concessione e il diritto europeo si preoccupa essenzialmente di creare un mercato delle concessioni si preoccupa di realizzare la concorrenza per l'accesso al titolo concessorio si preoccupa molto meno della gestione del rapporto concessorio il che è una chiara disfunzione perché le concessioni durano 30 anni e quindi il momento in cui inizia un rapporto è importante ma certamente è relativamente meno importante rispetto alla vita del rapporto concessori ora se l'Europa chiede le gare implicitamente sta suggerendo che le gestioni debbano essere tutte private perché alle gare tendenzialmente le gare sono tendenzialmente pensate per aprire il settore operatori economici privati e questo crea rispetto alla storia all'assetto giuridico che tradizionalmente si è consolidato in Italia un problema di spiazzamento rispetto ai gestori pubblici in mano a enti territoriali ed è per questo che del diritto europeo ci si è interessati soprattutto della deroga alla gara per consentire per continuare ad ammettere uno spazio di gestione pubblica le deroghe sono due parlo a persone che ne sanno moltissimo forse più di me le deroghe sono quelle mediante un affidamento a una società in house poi in realtà l'articolo 17 paragrafo 6 così come trasposto nel codice dei contratti pubblici nell'articolo 5 comma 4 se non mi ricordo male ammette che vi possa essere uno scambio di contratti tra amministrazioni aggiudicatrici laddove questo corrisponda alla più efficiente cura degli interessi pubblici di cui sono intestatari le amministrazioni tra le quali avviene lo scambio vengo al punto dal 2011 in Italia la funzione di concedente che prima era in mano all'ANAS viene data al MIT è il ministero delle infrastrutture e dei trasporti che continua ad avere il compito di concedente e quindi di avere una serie di responsabilità non soltanto nel momento dell'avvio del rapporto concessorio ma poi ha tutta una serie di responsabilità che riguardano la vita del rapporto in termini di vigilanza controllo negoziazione delle modificazioni che nell'arco della vita del rapporto possono intercorrere il MIT è un organo dello Stato se noi conosciamo la grammatica dell'inaus sappiamo che l'inaus può essere fatta a una società che sia in rapporto di controllo analogo rispetto al MIT e quindi di nuovo il modello dell'inaus è un modello che spiazza le gestioni locali perché l'unica gestione consentita sarebbe quella di una società in aus del MIT a questo problema di spiazzamento il legislatore italiano a un certo punto ha provato a porre un rimedio e lo si vede ne è traccia limpida il comma 8 ter dell'articolo 178 del codice dei contratti laddove in una disposizione non perfettamente brillante dal punto di vista linguistico e delle tecniche di drafting normativo sostanzialmente si dice che è possibile che il MIT insieme a enti territoriali possano fare un accordo che generi un comitato di controllo analogo congiunto tra lo Stato e gli enti territoriali che presiede l'attività di un concessionario che è metastatale e metallocale bene questa norma è rimasta sulla carta non ha sino ad oggi trovato nessuna applicazione proverò a tornare tra breve sulle ragioni per le quali questo tentativo è fallito il fallimento di questo tentativo ha fatto guardare all'altro modello di deroga quello dell'accordo interistituzionale e questo schema logico è stato sussunto nell'articolo 13 bis del decreto fiscale per il 2017 l'idea qual è? quella di come dire mettere da un lato il MIT e dall'altro lato gli enti territoriali che erano i soci capitalisti della 22 per la 22 e la stessa cosa si può replicare per gli enti che avevano la titolarità delle autovie venete perché la norma riguarda non soltanto la 22 ma anche autovie venete fondamentalmente l'obiettivo concreto è quello di consentire agli enti locali di poter avere un soggetto che rispetto a loro in rapporto di in-house che possa continuare a gestire l'autostrada anche dopo che nel 2014 la antica concessione era venuta a scadenza la bozza di accordo a cui hanno lavorato alacremente mi viene da pensare sia il MIT sia gli enti locali con il sostegno anche delle due società coinvolte a una struttura dicotomica c'è una prima parte nella quale si enunciano tutti gli obiettivi che sono in comune tra Stato e enti gli obiettivi sono degli obiettivi di sviluppo del corridoio del Brennero sono obiettivi di sviluppo degli assi di comunicazione attenzione questo è un accordo importante perché gli obiettivi comuni sono quelli di potenziare le capacità di trasporto intermodale quindi la intermodalità lo sviluppo della ferrovia in particolare nell'asse del Brennero è uno sviluppo che se noi guardiamo la cosa dall'angusta prospettiva di un gestore dell'autostrada rappresenta una infrastruttura in concorrenza perché è una in concorrenza intermodale quindi c'è un accordo tra i due livelli di governo questione che evocava il nostro presidente nella introduzione la seconda parte dell'accordo è una convenzione è una convenzione che lega il MIT come concedente e gli enti territoriali come concessionari è una concessione passatemi l'espressione gergale è una convenzione normale è una convenzione che ha le stesse caratteristiche delle convenzioni che il MIT stipula con soggetti privati il centro della convenzione è rappresentato naturalmente dal modello tariffario che viene sussunto nella convenzione è un modello tariffario normale che consente cioè di remunerare gli investimenti generare tutti gli utili che servono per ammortizzare gli investimenti in altre parole la convenzione che è dentro l'accordo interistituzionale è un come dire dispiega un rapporto che è di tipo commutativo e non di tipo compensativo lo dico provo a dirlo in maniera più chiara i concessionari possono creare valore e questo valore può essere distribuito tra i soci che sono i proprietari che sono i capitalisti della società che gestisce l'autostrada non c'è una compensazione tra centro e periferia degli oneri c'è la creazione del valore il concessionario è un imprenditore di nuovo passatemi il termine è un imprenditore puro è su questo aspetto che la commissione europea ha avuto dei dubbi lo dico in maniera icastica perché il tempo è poco e non voglio allungarmi l'idea che mi sono fatto è che la commissione pensi questo se il contratto è un contratto che genera un lucro questo contratto andrebbe portato sul mercato dove vi sono dei privati che si contendono il contratto lo schema commutativo è della sfera privata e non della sfera pubblica dove invece vi sarebbe spazio vi sarebbe luogo soltanto per forma di compensazione dei costi questi dubbi non hanno portato alla reiezione al rigetto dell'accordo hanno portato la commissione in maniera pragmatica in maniera funzionalista a chiedere che vengano fatte delle correzioni le correzioni sono sostanzialmente legate alla governance della società che sarà il gestore della concessione si sta andando verso un modello di governance molto complesso addirittura barocco essendo la società in controllo analogo congiunto con i 16 e passa enti che hanno una quota nel capitale vi deve essere naturalmente un comitato di controllo analogo congiunto che è sopra quella società accanto e a fianco a questo comitato di controllo analogo congiunto nell'accordo si delinea un comitato di indirizzo e di coordinamento il comitato di indirizzo e coordinamento si dice che è un comitato paritetico perché è un comitato fatto di 6 3 indicati dallo Stato 3 indicati dagli enti territoriali ma non è un comitato veramente paritetico perché se uno va a leggere le regole di funzionamento del comitato vede che le decisioni vengono prese all'unanimità poi però se non c'è l'unanimità predomina la scelta del presidente e il presidente indicato dallo Stato quindi il comitato è attrazione statale è interessante sarà interessante magari in un momento successivo potremo utilizzare lo spazio della tavola rotonda per scendere in alcuni dettagli ora non ho il tempo ma fidatevi della mia sintesi il comitato di indirizzo e di coordinamento sostanzialmente detiene tutti i poteri che generalmente ha la assemblea di una società di capitali e quindi detiene dei poteri penetranti non sono come dire degli indirizzi vaghi sono dei poteri di governance o meglio poteri di conformazione della governance che cosa ne esce dall'esercizio attuativo del 13 bis attesi i vincoli i condizionamenti imposti dalla DG Grow della commissione ne esce un ibrido la deroga c'è ma è una deroga che tende appunto a mettere elementi del modello dell'inaus stato-regioni dentro una cornice di accordo interistituzionale quindi sostanzialmente l'accordo non è solo attuazione del 13 bis così come chi l'aveva pensato questo articolo avrebbe desiderato ma finisce per essere attuazione congiunta del 13 bis del 178 8 ter ora il giudizio che si deve dare di questo esercizio di equilibrio di questo esercizio di sintesi è un giudizio negativo perché una governance così come ho potuto solo tratteggiare in sintesi è una governance che non funziona perché gli organi di amministrazione della società che gestirà all'autostrada dovrà come dire essere servo di due padroni e questi due padroni potrebbero trovarsi in concreto a non condividere le scelte ora è particolarmente singolare e criticabile la posizione della commissione perché la commissione sostanzialmente non si è fidata del fatto che lo Stato il MIT già esercita dei penetranti poteri nei confronti del concessionario sono i poteri di vigilanza e di controllo che sono i poteri tradizionali che il concedente ha nei confronti del concessionario evidentemente ritiene questi poteri insufficienti e si è voluta garantire dando allo Stato al concedente dei poteri di indirizzo endogeni ha voluto dare allo Stato la possibilità di entrare dentro le stanze della società e dentro le stanze della società poterne condizionare le scelte che sono anche le scelte più minute di gestione della società ora io mi chiedo vedo molte persone che lavorano nell'A22 in particolare quelli che si occupano dei temi di finanza mi chiedo come si possa andare da un investitore da un soggetto che opera nella finanza e chiedere che con questo assetto di governance un investitore istituzionale possa prestare dei capitali per realizzare le opere che sono contenute nella convenzione lo dico ancora più in sintesi l'assetto a cui si arriva pone seriamente in dubbio la bancabilità della convenzione perché di nuovo chi deve prestare dei soldi alla società deve avere delle garanzie che quella società abbia un grado di efficienza operativa sufficiente per poter realizzare gli impegni che sono contenuti in convenzione concludo vedevo già degli elementi delle facce concludo provando a fare una riflessione più generale il modello che si è andato costruendo è un modello che può essere valido per ogni gestione autostradale è un modello buono a tutte e fare questa domanda non me la sono posta io questa domanda me la sono posta avendo avuto da qualche amico delle io tendo a non seguire le dichiarazioni via social network dei ministri non è una mia abitudine però qualcuno mi ha girato questi tweet questi post e vedo che il ministro protempore delle infrastrutture dei trasporti va dicendo ai 420 che il modello dell'accordo interistituzionale è la scoperta della gestione pubblica che potrà essere come dire trasportata potrà essere trasferita a tutto il sistema delle gestioni autostradali io devo dire anche su questo nutro molto scetticismo lo nutro perché la critica che muovo alla posizione della DG Grow è una critica giuridica è una critica molto puntuale la DG Grow con la sua come dire con il suo tentativo di fare sintesi tra poli estremi forse non rendendosene conto sta alimentando due elementi di degenerazione del sistema amministrativo italiano che dagli anni 90 in avanti c'eravano messi alle spalle vale a dire il centralismo e l'uniformità amministrativa se tu dai allo Stato il potere di controllare dall'esterno attraverso il potere di vigilanza e dall'interno attraverso il potere di controllo che viene esercitato nei confronti della società stai sostanzialmente dicendo che le uniche gestioni pubbliche possono essere gestioni pubbliche statali quando invece la storia delle autostrade italiane ci dimostra come ho provato a dire nel punto iniziale per questo ero molto affezionato al punto iniziale che l'assetto è sempre stato un assetto composito che ha composto modelli diversi il settore autostradale è un settore certamente di efficienza del paese adesso come dire al netto dei fatti di Genova consentitemelo la efficienza di questo settore è stata garantita anche dal pragmatismo che si è avuta l'intelligenza di seguire nel non seguire un modello unico un modello amministrativo un modello di gestione che fosse monolitico il luogo del monopolio abbiamo scelto il patchwork e l'accordo interistituzionale è una cosa che funziona bene per A22 e Autovie Venete perché si connette con un principio di diritto costituzionale italiano che quindi l'Europa dovrebbe conoscere e rispettare che è quello della rinforzata autonomia che queste regioni hanno dentro il panorama ordinamentale italiano immagino che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti abbia a mente il problema da molti sollevato del riequilibrio dei rapporti tra concedente e concessionario quando questi rapporti leghino una parte pubblica e una parte privata i fatti di Genova hanno segnalato all'attenzione della pubblica opinione che in realtà questi rapporti sono molto sbilanciati a vantaggio dei privati ora non è il tema della relazione di oggi affrontare questo versante la suggestione che posso provare a trasferire è che elaborando una nozione autonoma di concessione autostradale si dovrebbe immaginare un rafforzamento delle correzioni regolatorie durante il corso del rapporto però continuo a pensare che il modello della cooperazione interistituzionale è un modello che può funzionare per singole aree per singoli territori dove questi territori esprimono delle istanze di autonomia garantite dalla Costituzione e ora mi sorprende molto essendo un frequentatore del diritto europeo che in questa circostanza la Commissione non sia stata come dire rispettosa dei suoi principi e in particolare del principio del rispetto dell'autonomia amministrativa degli Stati e appunto ritengo non perfettamente in maniera cosciente con i suoi vincoli sta commettendo un duplice errore si sta invadendo una sfera che non è propriamente di competenza dell'ordinamento europeo perché gli assetti organizzativi interni agli Stati sono una questione degli Stati tanto più se questi sono condizionati da elementi di diritto costituzionale e due è ancora peggiore la Commissione che dovrebbe avere attenzione all'efficienza dei modelli di funzionamento per mettere insieme cose che non stanno insieme accetta che si creino le precondizioni per modelli che sicuramente presentano dei gravi dubbi di disfunzionalità operativa bene ho finito grazie grazie professor Saltari è stato mi sembra bravissimo perché è riuscito a darci un'esposizione estremamente chiara del sistema e insieme anche una valutazione critica del sistema confesso che sentendolo a un certo punto mi aspettavo di sentirlo dire guardate che macchina meravigliosa abbiamo messo insieme invece a un certo punto ci ha detto guardate che questa macchina potrebbe anche non funzionare proprio benissimo e ci ha dato un'opinione veramente importante sembra quasi paradossale che sia stata l'Unione Europea imporre una forma di centralismo statale ricordo che a tutt'altro proposito uno studioso tedesco di molti decenni fa aveva parlato di Landesblindheit di cecità regionale dell'Unione Europea ma si riferiva a tutt'altro e non certo non pensava alle autostrade due annotazioni una meramente organizzativa non abbiamo la relazione della dottoressa Marinali perché era in queste fasi concitate altrimenti impegnata quindi anche il fatto che siamo leggermente in ritardo non graverà sulla mattinata perché in realtà abbiamo una relazione in meno la seconda annotazione consiste in realtà nel dare la parola al prossimo relatore ma con l'avvertenza che in effetti abbiamo seguito un percorso dicevo stamattina parliamo di regole questa mattina ecco siamo partiti dal concreto ecco siamo partiti da uno specifico episodio da un modello particolare che si adatta ad una specifica realtà adesso forse torniamo un po' alle spalle a una riflessione più generale da una parte guardando al quadro normativo che l'Unione Europea ci presenta e dall'altro guardandoci intorno per vedere come altri sistemi statali si sono regolati in questa materia ecco quindi con questo spirito di essere partiti dal concreto ma di tornare anche a una riflessione sui profili più generali do molto volentieri la parola sempre ringraziandolo al professor Condinanzi dell'Università di Milano che ci parla dei profili relativi alla regolazione dell'Unione Europea grazie 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 professor Falcone grazie a coloro che mi hanno invitato e grazie anche alla bella relazione di Lorenzo che ha anticipato alcuni temi che sono centrali per questo convegno e anche un po' in funzione della sua localizzazione geografica evidentemente perché questo convegno è un convegno diciamo sul tema delle autostrade del loro regime giuridico ma è senz'altro molto condizionato dalla soluzione peculiare che sembra essere individuata o sembra in corso di diciamo di perfezionamento nella sua individuazione magari già oggi pomeriggio con riferimento al tema dell'autobrennero e autovie venete allora il devo dire che io condivido molto delle cose che sono state dette da Lorenzo rispetto alle scelte dell'Unione Europea in questa materia e della commissione è un tema che abbiamo affrontato in altre stagioni della nostra vita in ruoli diversi ma devo dire su questo ci siamo sempre trovati abbastanza allineati ovviamente ho qualche sfumatura differente cercando un po' di giustificare la posizione della commissione rispetto agli strumenti che la commissione aveva in mano però prima di arrivare a questo che comunque è un tema su cui poi sicuramente anche altre relazioni interverranno io devo dire mi devo confrontare un po' con il titolo quindi i vincoli europei alla disciplina delle autostrade allora già questi vincoli se c'è forse se c'è una materia in cui il legislatore dell'Unione Europea è tutto sommato parco di vincoli è proprio la materia delle concessioni nel senso che le concessioni autostradali ci spiegava prima il professor Saltari sono un aspetto vengono ricondotti nell'ordinamento europeo al tema al grande tema delle concessioni ebbene al tema delle concessioni l'Unione Europea non è che abbia dedicato una soverchia attenzione e una disciplina di tale dettaglio come abbiamo in altre materie in fondo mi pare che si possa dire che proprio nella materia concessoria il legislatore europeo pone meno vincoli di quanto si creda e soprattutto forse meno vincoli di quanto abitualmente gli si attribuisca ma del resto questo della responsabilità del legislatore europeo o dell'ordinamento europeo in senso lato sulle disgrazie nazionali è un po' in qualche modo lo storytelling di questi anni insomma non solo degli ultimissimi periodi ma in generale anzi spesso il diritto dell'Unione Europea lungi da imporre dei vincoli esige e impone spazi di libertà certo che poi se in quegli spazi di libertà il legislatore nazionale va a introdurre delle regole ebbene è chiaro che quelle regole devono essere conformi a quegli spazi di libertà perché altrimenti si sorge il vincolo nel senso che la norma interna finisce per violare il principio o la libertà che l'ordinamento dell'Unione Europea intendeva invece garantire e allora forse solo in questo senso si può dire il legislatore dell'Unione impone dei vincoli nel senso che preclude al legislatore nazionale di imporre dei vincoli nel senso che tende a garantire delle aree di libera circolazione in cui i vincoli non dovrebbero esserci e quindi le norme nazionali devono essere misurate rispetto a questi spazi di libertà del resto accade abbastanza frequentemente che si individuano spesso vincoli dove i vincoli europei non ci sono per giustificarne l'introduzione dove però ci sono quei vincoli vengono violati e dove le regole europee non vorrebbero vincoli per garantire agli operatori il loro libero operare nell'area della disciplina della concorrenza dei valori della concorrenza qualunque cosa questo voglia dire lo Stato spesso li introduce per condizionare invece all'uno o all'altro fine le scelte dell'operatore questo si è verificato in molte materie ovviamente non soltanto nella materia dell'autostrada era singolare la vicenda così per raccontare un aneddoto appunto di storytelling voi tutti sapete che cosa sono le SOA perché sono in qualche modo collegate al mondo di cui si discute e beh le SOA con la questione della sede in Italia l'Italia è l'unico paese o pressoché l'unico ad avere una disciplina relativa alle società organismi di attestazione bene perché in realtà l'attività delle SOA prima veniva esercitata dalla mano pubblica e poi ad un certo punto si è scelto di affidarla al mercato quindi a società che hanno determinati requisiti e che operano nel libero mercato però l'ordinamento ha previsto che prima ha previsto che le SOA devono avere sede legale in Italia devono avere la sede legale in Italia beh una norma di questo tipo evidentemente lo studente di diritto dell'Unione Europea all'università dopo qualche giorno di corso mi direbbe subito beh ma questa norma viola la libertà di stabilimento se richiedo la sede legale in Italia anzi è una norma direttamente discriminatoria e quindi va giustificata con delle esigenze specifiche ordine pubblico pubblica sicurezza sanità pubblica e allora la pubblica sicurezza che è quella che qua è capace di venire in rilievo la devo dimostrare ma dopo che l'ho dimostrata devo anche dimostrare che quella misura sia necessaria e proporzionata evidentemente cioè la famosa griglia di proporzionalità ben conosciuta attraverso la giurisprudenza della Corte di Giustizia alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia era difficile poter affermare che il requisito della sede potesse soddisfare questa verifica e allora il legislatore nazionale che cosa fa? dice beh prima la norma diceva devono avere la sede legale in Italia la cambio devono avere una sede in Italia modifica legislativa beh ma allora la necessità di verificarmi passa dal diritto di stabilimento alla libertà di prestazione dei servizi evidentemente cioè devo dimostrare che la prescrizione della sede per quanto secondaria sia comunque una prescrizione che non vada a ledere oltremisura la libertà di prestazione di servizi della società stabilita in Francia in Germania o chissà dove in un altro paese dell'Unione Europea che vorrebbe svolgere l'attività della SOA in Italia rispetto a dei lavori pubblici italiani e poi il legislatore italiano però attenzione perché non è che si limitava a prescrivere una sede ma doveva essere una sede con certe caratteristiche dove si tenessero la documentazione idonea all'esercizio del controllo rispetto alla quale si potesse effettuare ufficialmente e utilmente la verifica dell'ANAC piuttosto che degli operatori nazionali insomma erano talmente tanti requisiti prescrittivi che si imponevano a questa sede secondaria che alla fine sostanzialmente questa prescrizione della sede secondaria nascondeva di nuovo la sede principale e quindi altra procedura di infrazione questa volta sulla libertà di prestazione di servizi prima sulla libertà di stabilimento e alla fine la si è chiusa dicendo vabbè devono avere una sede anche in un altro paese membro possono avere una sede anche in un altro paese membro a condizione che quel paese abbia una disciplina comparabile con quella italiana sostanzialmente comparabile con quella italiana all'unione europea questa cosa tutto sommato proprio alla digigro tutto sommato è andata bene perché dice ma sì così io realizzo in qualche modo la libertà di circolazione l'occhiuto legislatore italiano però dice no però io li ho fregati perché in realtà siccome le so sono mie e le ho soltanto io non ci sarà mai nessun paese che soddisfa le mie esigenze e quindi ogni volta che si porrà un caso io gli andrò a dire no mi spiace tu non puoi esercitare in libertà di prestazione di servizio la sua perché non stai messi a essere così allora aspettiamo che si verifichi il caso e poi vediamo se questa soluzione tiene rispetto al diritto dell'unione però questo era un esempio semplicemente per dirvi dove in realtà il contrasto con il diritto dell'unione tanto sofferto dagli operatori dall'associazione delle SOA dall'amministrazione nazionale e dal legislatore nazionale era un contrasto che nasceva non con regole europee o con vincoli europei ma con libertà garantite dal diritto dell'unione che naturalmente sono delle libertà che giocano a contrario rispetto a regole restrittive imposte dal legislatore nazionale ovviamente ci possono essere delle esigenze che le giustificano queste regole ma devo dimostrarne l'utilità la proporzionalità la coerenza la necessità allora un po' di questo largo raggio un po' c'è anche per quanto riguarda il nostro tema delle concessioni autostradali e del resto mi pare di dovermi chiedere innanzitutto ma perché il diritto dell'unione europea innanzitutto si occupa di concessioni la concessione nel nostro ordinamento ha sempre avuto una tradizionale collocazione pubblicistica ma parlo naturalmente qua sotto la vigilanza e la prudenza degli amministrativisti e quindi dirò pochissimo per non dire delle stupidaggini però mi pare che si possa in qualche modo definire come un mezzo o un istituto che è idoneo a trasferire al privato poteri e facoltà dell'amministrazione e quindi di fatto diventa uno strumento penetrante per assicurare forme di intervento pubblico nell'economia a maggior ragione a questo punto visto che nei trattati noi troviamo una norma come l'articolo 345 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che dice che i trattati non pregiudicano del tutto o meglio lasciano del tutto impregiudicato il regime della proprietà allora mi verrebbe da dire ma perché il diritto dell'Unione si occupa di questa materia che non è specificamente normata in nessuna disposizione del trattato e che d'altro canto deve fare i conti con una norma come l'articolo 345 che sembra salvaguardare qualsiasi scelta in materia proprietaria pubblica o privata che viene effettuata dai legislatori nazionali beh perché perché in realtà come dire questo si spiega molto facilmente da un punto di vista dello studioso del diritto dell'Unione Europea perché in realtà è una cifra tipica del processo di integrazione che non esistono competenze esclusive degli stati membri vale il contrario esistono competenze esclusive dell'Unione dove lo Stato nulla può fare se non attuare i comandi giuridici dell'Unione ed esistono competenze attribuite all'Unione a titolo concorrente dove possono agire entrambi secondo il principio di sussidiarietà evidentemente che diventa una specie di criterio regolatore dell'esercizio della competenza attribuita a titolo concorrente ma dove lo Stato comunque decida di esercitare una sua competenza che ovviamente non è attribuita a titolo esclusivo all'Unione ma che non è neanche elencata nella materia delle competenze concorrenti supponiamo cosa che può benissimo accadere estendo lo Stato lente a competenza generale residuale che conosciamo nel nostro sistema ebbene anche in quel caso quando lo Stato esercita quella competenza deve rispettare le norme del diritto dell'Unione perché qui non siamo più in materia di competenza ma siamo in problema di rapporto tra norme non potrebbe lo Stato esercitando una competenza che non è attribuita all'Unione ledere disposizioni del diritto dell'Unione che in qualche modo interferiscono con quell'esercizio di competenza e questo accade persino in quell'unica materia dove forse si potrebbe ma non è discutere di una competenza dello Stato che è quello della tutela della sicurezza nazionale nonostante la previsione dell'articolo 4.2 del trattato sull'Unione nonostante la previsione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione che parlano di sicurezza dello Stato anche in questa materia la Corte di Giustizia ha sempre detto benissimo tu mi vieni a parlare di sicurezza mi viene a parlare dicendo che quella certa normativa sulle importazioni o sugli appalti o che so io è giustificata per ragioni di sicurezza nazionale perfetto allora intanto me lo devi spiegare non basta fermarlo intanto me lo devi spiegare e poi mi devi dimostrare che anche qua non vai oltre i limiti del necessario non è che mi ledi le libertà comunitarie oltre quanto è strettamente indispensabile per tutelare la sicurezza nazionale a maggior ragione se non siamo nel settore della sicurezza nazionale ma se siamo in un settore diverso come può essere quello appunto del mercato delle concessioni e delle concessioni autostradali dove è evidente che la forza dell'imperio nazionale è minore da un punto di vista dell'unione europea perché siamo in una materia che è innanzitutto squisitamente economica non solo economica evidentemente ma è innanzitutto squisitamente economica e quindi evidente che devo rispettare la normativa ambientale e ben lo sappiamo la direttiva via piuttosto che la direttiva sul rumore ambientale e così via devo rispettare le regole sugli aiuti di Stato ed è un tema che si pone ma devo soprattutto rispettare le regole sul funzionamento del mercato interno ed è lì che si pone il problema maggiore da un punto di vista del diritto sull'unione perché le regole sul mercato interno non sono regole definite come dire per cilindri in ragione della competenza materiale le regole sul mercato interno si definiscono sono regole per così dire funzionali nel senso che io le definisco in ragione dell'obiettivo che perseguono che è quello di realizzare quello spazio senza frontiere interne in cui circolano liberamente i fattori della produzione in un regime garantito condito dalle regole di concorrenza allora è chiaro che le norme sul mercato interno libertà di circolazione delle persone dei servizi dei capitali e concorrenza rischiano di intralciare con qualunque esercizio della competenza nazionale e ogni atto di esercizio della competenza nazionale quali essa sia deve in qualche modo commisurarsi con le regole del mercato interno ed ecco perché la direttiva concessioni io adesso qui farò un salto quantico e non parlerò del 93 non parlerò del 2000 farò qualche riferimento direttamente alla nostra direttiva 23 del 2014 questa direttiva 23 del 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione appunto è una direttiva di mercato interno è una direttiva che tende a realizzare il mercato interno e lo deduciamo fin da subito lo deduciamo fin dall'analisi della sua base giuridica qual è la base giuridica di questa direttiva beh la base giuridica l'andiamo a leggere all'inizio considerando della direttiva medesima e vediamo che menzione il 53.1 il 62 e il 114 e questo è la classica trilogia del mercato interno il 53.1 relativa alla libertà di stabilimento è quella che consente al Consiglio e al Parlamento secondo la procedura legislativa ordinaria di deliberare delle direttive volte al ravvicinamento delle norme legislative regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di accesso alle attività di lavoro autonomo il 62 è in materia di servizi e richiama il 53.1 e poi abbiamo l'articolo 114 sulle direttive di armonizzazione che tendono a facilitare il funzionamento del mercato interno tenete presente che tutte queste disposizioni parlano puntualmente di direttive non di misure come accade per altre disposizioni per cui il legislatore dell'Unione Europea può fare un po' l'ognorri e dire ma sai che c'è una misura allora sai magari adotto un regolamento oppure è una misura beh allora siccome potrei adottare un regolamento adotto anche una direttiva dettagliata una direttiva che realizza un livello di armonizzazione massimo e no qua non lo posso fare perché il trattato mi prescrive una direttiva e la direttiva è quella del 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione è una direttiva che vincola gli stati sì quanto all'obiettivo da raggiungere ma li lascia liberi quanto alla forma e ai mezzi è la classica normativa quadro diciamo per usare delle categorie più vicine al nostro lessico giuridico e allora non stupisce che io leggendo questa direttiva trovi in fondo pur essendo abbastanza lunga ma ha una sfilza di considerando che la riempiono per metà trovi in realtà poche cose magari anche importanti ma non tantissime che mi consentono di annoverarla appunto tra le direttive di armonizzazione minima volte a garantire un accesso effettivo al mercato e un accesso non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici stabiliti nell'area dell'Unione Europea questo e qual è il mercato che viene in rilievo beh è quello che diceva Lorenzo prima è il mercato delle concessioni perché è questo che ha in mente il legislatore dell'Unione il mercato delle concessioni perché le concessioni sono uno strumento in fondo come è stato anche ricordato attraverso le quali riprendendo delle una tradizione storica che il professor Saltari ci ha ricordato prima beh è uno strumento attraverso cui si riescono a veicolare in tempi di crisi economica e di crisi finanziaria e di crisi del debito sovrano e così via si riescono a veicolare verso interventi infrastrutturali importanti che spetterebbero allo Stato membro i capitali dei privati allora c'è un mercato delle concessioni indubitabilmente non potrebbe non esserci se c'è un mercato delle concessioni l'Unione Europea interviene con poche regole di principio funzionali a quelli che sono i suoi obiettivi ma c'è anche un'altra ragione per cui questa direttiva è una direttiva di armonizzazione minima ed è che si trovava e ce lo diranno forse prima gli interventi che seguono ma ce lo dice anche il libro curato dal professor Saltari lo faccio vedere che l'ho comprato o titolo per essere qua oggi che le realtà ovviamente dei singoli stati membri in questa materia sono molto diverse l'una dall'altra sono realtà che presentano che sono anche il frutto della loro storia evidentemente presentano tratti comuni talvolta ma presentano anche elementi di diversità importanti allora in questa materia realizzare come dire il trovare il minimo comune denominatore spinge l'armonizzazione ad un livello minimo come normalmente accade in materie dove pure si pongono questi problemi di diversità tra le discipline degli stati membri ed ecco allora che questa direttiva consacra alcuni principi che nel frattempo erano maturati nella giurisprudenza della corte di giustizia sulla base ancora della direttiva appalti del 93 consacra alcuni principi uno è già stato ricordato questo paradigma del contratto per cui la concessione diventa un contratto esce o tende ad uscire dall'area della dimensione pubblicistica per ricadere nell'area dell'autonomia privata diciamo in cui il contratto si libera si va a gestire liberamente un certo fenomeno economico e naturalmente questo avviene attraverso l'applicazione e il rispetto delle regole di concorrenza ma le regole di concorrenza quando visto che è il mercato delle concessioni che rileva nel momento iniziale dell'affidamento la regola della concorrenza opera al momento della gara e si impone la gara perché si vuole assicurare il rispetto delle regole di concorrenza e questa può essere una scelta condivido la critica di Lorenzo che è fatta anche in altri suoi scritti ma ripetuta qua adesso vista da un punto di vista come dire ontologico della natura del problema a cui stiamo pensando effettivamente può essere un po' miope questo modo di intervenire io ho davanti a me un fenomeno che avrà una durata attenendo alle infrastrutture una durata di decenni quantomeno di decenni e mi preoccupo di che cosa solo del momento iniziale tutto il resto qualche cosa lo mettiamo magari in giro sulla revoca cerco di mettere qualche cosetta la trovo ma ben poco tutto il resto è legato al concetto di trasferimento del rischio e lo dice l'articolo 5 della direttiva insiste su questo aspetto di trasferimento del rischio io siccome io trasferisco il rischio attraverso il contratto di concessione sarà poi evidentemente l'affidatario sarà quindi il concessionario a doversi gestire tutta una serie di problematiche che derivano quanto alle modalità esecutive dell'attività oggetto di concessione se questa è la prospettiva ripeto vanno ricordati alcuni e pochi punti che la direttiva pone a questo riguardo quindi la direttiva d'altro canto se è vero che impone la gara per quanto riguarda l'accesso al mercato però lascia anche zone non così ristrette di deroga alla gara l'articolo 17 che è già stato ricordato pone qualche formula che consente la deroga alla gara e quindi abbiamo il modello appunto della cooperazione interistituzionale del pubblico pubblico e il modello dell'inaus quello che abbiamo che si usa definire come modello dell'inaus tutte le volte in cui c'è affidamento a terzi quindi tutte le volte in cui abbiamo l'affidamento a terzi e quindi l'amministrazione nazionale sceglie di non ricorrere a nessuno dei modelli dell'articolo 17 perché è una scelta che poi spetta all'amministrazione nazionale evidentemente allora a questo punto la gara per il rispetto del principio della concorrenza per cui l'esternalizzazione sì scelta dall'amministrazione allora a quel punto rispetto dei valori della concorrenza i criteri di aggiudicazione anch'essi sono tutto sommato minimalisti all'interno della direttiva e la direttiva non pone neanche una graduatoria di questi criteri di aggiudicazione addirittura manca la prescrizione dell'esistenza di un PEF di un programma economico finanziario che debba puntualmente essi sulla base della direttiva la direttiva non lo prescrive anche perché questo è perché è semplice la logica del trasferimento del rischio saranno fatti i tuoi concessionario di come tu realizzerai l'equilibrio del tuo programma economico finanziario ci sono delle regole invece sulla durata e certo sulla durata sì perché le norme sulla durata sono strettamente correlate al momento dell'ingresso cioè l'uscita è come dire il momento è correlativa al momento dell'ingresso e la cartina è tornasole la durata non deve essere superiore al periodo di tempo che è necessario per il ritorno degli investimenti effettuati per garantire un'adeguata remunerazione del capitale investito può essere inferiore naturalmente ma non deve essere superiore da qui tutto il tema doloroso per la nostra legislazione delle proroghe delle proroghe delle concessioni che abbiamo vissuto in tutti i fenomeni concessori abbiamo una causa in corte di giustizia oggi per quanto riguarda la proroga della cività vecchia Livorno la causa che riguarda la SAT come tutti voi sapete dove appunto si discute della legittimità di quella proroga fino al 2046 che è stata realizzata con una norma legislativa e quindi si è detto la commissione semplicemente in quella causa dice ma per me prorogare di 18 anni equivale a una nuova concessione se equivale a una nuova concessione per piacere rispetti la gara evidentemente perché altrimenti mi fai sballare il principio la difesa dello Stato italiano non è del tutto fessa fessa nel senso non priva di argomenti in quella vicenda in quella particolare vicenda giurisdizionale perché pone in discussione il dies a quo cioè dice ma la normativa interna mi metteva dovevo il termine doveva decorrere dal momento in cui fosse stata interamente realizzata la tratta dell'autostrada Civitavecchia Livorno siccome in realtà per ragioni per occorrenze varie mancavano i soldi una cosa e l'altra non l'ho mai realizzata interamente non sono mai arrivato se non a partire dal a questo punto il dies a quo non è mai scattato per cui in realtà non c'è una violazione della normativa sulla durata della concessione in funzione di questa ragione vedremo cosa dirà la Corte di Giustizia ma è una difesa che assume un suo significato per questo non esistono regole sui subappalti all'interno della direttiva che è un altro punto critico per questo c'è la disciplina sulle modifiche dei contratti il famoso articolo 43 l'assenza di regole sui subappalti è proprio uno dei temi che mette in evidenza quel concetto di trasferimento del rischio o meglio la direttiva si limita a dire che l'affidatario della concessione deve indicare fin dall'inizio quali sono le frazioni di lavoro che intenderà far eseguire dal subappaltatore per essere certo che anche il subappaltatore risponde a determinati requisiti ma non pone obblighi o limiti al subappalto quindi una direttiva come dire di grande nell'ambito della quale si poneva un grande spazio di discrezionalità per il nostro legislatore l'ha esercitato bene non l'ha esercitato bene io non ho certo la competenza la competenza per dirlo certo mi sembra che il famoso divieto di goldplating che pure la legge delega poneva forse non sia sempre stato puntualmente rispettato c'è un po' di sovrapposizione di normativa interna che è andata a coprire gli spazi di discrezionalità lasciati dalla direttiva gli spiazzi vuoti lasciati dalla direttiva di armonizzazione minima l'ha fatto ha fatto bene non ha fatto bene beh intanto certe cose erano consentite al legislatore nazionale e forse erano anche doverose da parte del legislatore nazionale in funzione delle esigenze che di volta in volta i singoli legislatori nazionali si pongono da questo punto di vista il tema del subappalto è proprio una 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 la disciplina per dire dell'articolo del nostro articolo 105 dei contratti pubblici che ben conoscete anzi meglio di me è proprio una una chiara enunciazione di questo una chiara applicazione di questo principio vediamo se questa disciplina dell'articolo 105 resiste alle interrogazioni che sono state fatte nel 2018 dal Consiglio di Stato e dal Tar Lombardia che pongono in discussione questo questo limite del 30% che come sappiamo nel nostro ordinamento viene giustificato con la necessità di tutelarsi o di rispettare o comunque di non favorire il rischio di infiltrazioni mafiose problematiche legate alla criminalità organizzata che pure nel tema degli appalti o delle concessioni di lavoro è un tema che caratterizza il nostro ordinamento anche sulla vicenda SOA la giustificazione era questa ebbene vedremo se qua Tar Lombardia e Consiglio di Stato che hanno interrogato sia pur con diverse motivazioni e diversi orientamenti la Corte di Giustizia vediamo che risposta otterranno dalla Corte sotto questo aspetto un altro un altro tema che pure si pone è quello dell'obbligo di esternalizzazioni per le concessioni già in essere quella disciplina dell'articolo 177 del codice degli appalti anche questa che voi ben conoscete e che anche qua identifica è un po' una caratteristica del nostro ordinamento rispetto alla situazione della direttiva la direttiva in realtà nulla dice a questo proposito la direttiva immagina di vivere in un mondo dove tutto è perfetto quindi abbiamo una successione di discipline nel tempo chiaramente normata per cui dal momento in cui entra in vigore dovrà entrare in vigore la normativa interna si applicherà la nuova disciplina non più quella vecchia e così via c'è una disciplina transitoria puntualmente definita in realtà il nostro legislatore ha fatto talvolta delle scelte di tipo quasi di compensazione rispetto alle situazioni precedenti nelle quali avevamo avuto delle concessioni che erano state affidate non attraverso metodi di evidenza pubblica e dove non vi fossero soluzioni di finanza progetto bene in questi casi si è cercato di compensare la diminuzione di concorrenza che c'era a monte perché affidate senza una procedura di evidenza pubblica attraverso un allargamento della un rafforzamento della concorrenza a valle un rafforzamento della concorrenza a valle con quelle percentuali dell'80% che diventano il 60% mi pare dal 2017 dal 2018 proprio per il tema delle concessioni autostradali questa disciplina subappalto che ho rapidamente ricordato l'articolo 105 gli obblighi di esternalizzazione previsti dall'articolo 177 introdotti dal legislatore interno nel silenzio della direttiva o nel quasi silenzio della direttiva sono compatibili con il sistema della direttiva mi viene da chiedere astrattamente si potrebbe dire di sì perché colmano dei vuoti vanno a disciplinare degli aspetti dove però come la mettiamo con il tema del trasferimento del rischio cioè nel momento in cui la direttiva vuole un sistema dove si realizzi il trasferimento del rischio tutto in capo al concessionario il quale quindi deve essere libero di effettuare le sue soluzioni organizzative e contrattuali e quindi anche di sbagliare eventualmente se però lo Stato impone tali e tanti paletti nell'esecuzione del rapporto concessorio non pregiudica il trasferimento del rischio e quindi in qualche modo non finisce per precludere la finalità della direttiva almeno come disegnata dall'articolo 5 del 178 con mater e delle problematiche che è 178 8 ter scusa e delle problematiche che involve abbiamo già ci ha già ricordato parecchie cose il professor Saltari e ci ha ricordato anche tutto il tema dell'articolo del benedetto articolo 13 bis del decreto fiscale del 2017 io non come dire non vorrei quindi su questo dire molto di più se non ecco non è che voglio difendere la commissione per ragioni d'ufficio perché faccio il professor di diritto dell'unione europea però leggendo in effetti questa lettera della digigro che è stata scritta all'amministrazione italiana cioè mi viene da dire sì forse un po' sfittica nel modo di valutare e sono d'accordo con queste critiche mi chiedo però se la commissione aveva altri strumenti a sua disposizione cioè se l'articolo 17 le consentiva di individuare altri strumenti che potessero meglio soddisfare gli interessi nazionali che attraverso la formula del nostro 13 bis si vogliono realizzare tra l'altro qui la commissione non sembra prendere in considerazione il 178 8 ter sembra proprio concentrarsi di più sul 13 bis e sembra farsi condurre per mano dalle dichiarazioni che sono state fatte dallo stato italiano in sede di notifica a un certo punto la commissione dice le discussioni sull'opzione cooperazione orizzontale svoltesi tra luglio del 2017 e l'agosto 2018 qua ci sono probabilmente molti protagonisti di questa storia hanno rivelato che le autorità italiane non ritengono auspicabile che le autostrade AB e AV siano gestite congiuntamente dal concessionario e dal MIT MIT concedente per norma concessionario la società partecipazione pubblica degli enti locali quindi se questo è il progetto di accordo notificato è volto a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti relativi alle eccezioni in house come dire se mi dite che quello non può funzionare ed è l'unico altro strumento che io ho ad esposizione allora mi confronto con l'in house con l'in house verticale più o meno classico e nella sua analisi la commissione mi sembra dire tutto sommato dice ma io il controllo analogo lo vedo realizzato lo vedo realizzato attraverso questo strumento del CIC in qualche modo perché il controllo analogo lo deve comunque realizzare il concedente e il concedente tu mi vieni a dire che è il MIT e allora io immagino che sia realizzato grazie alla presenza dello strumento di governance particolare della società che si realizza attraverso questa formula del CIC sono d'accordo che il risultato che ne esce è un risultato difficile non so se questo realizzerà e mi auguro di no che realizzerà delle difficoltà sul piano della bancabilità dell'operazione perché alla fine io ho una società che deve sottostare ad un organismo che sta fuori certo è un organismo che ha dei poteri molto penetranti tu dicevi come quelli dell'assemblea degli azionisti per certi versi quasi sovrapponibili a quelli di un consiglio di amministrazione quindi addirittura incide significativamente sulla governance della società e questo mi rendo conto che può rappresentare un problema per l'ente finanziatore di diritto privato se è cassa depositi e prestiti magari no ma se è la sparcasse di turno io immagino che questi problemi se li ponga evidentemente allora io non so quello che mi sembra di poter dire è però che forse la commissione da questo punto di vista altri strumenti non ne aveva e questa forse è una critica per il carattere minimale della direttiva di armonizzazione 2014-23 bene mi fermo qua vi ringrazio grazie anche al professor Condinazzi grazie anche al professor Condinazzi che è stato anche lui chiaro penetrante e ci ha dato una diversa prospettiva in larga misura peraltro coincidente continuiamo il nostro cammino in un certo senso a ritroso perché il professor Condinazzi ci ha detto guardate che non è facile armonizzare sistemi così diversi ecco adesso diamo un'occhiata ai sistemi armonizzanti che ci danno anche un'idea di come altri risolvono affrontano e risolvono i nostri stessi problemi quindi prego per la terza redazione grazie grazie presidente ringrazio gli amici trentini Barbara Marchetti Fulio Cortese e il presidente della 22 per l'invito e muovo diciamo appunto secondo la linea individuata dal professor Falcone dai risultati della ricerca più ampia che ha coinvolto appunto alcuni studiosi e che diciamo sono pubblicati nel libro che presentiamo oggi e quindi premetto che i dati di osservazione degli ordinamenti giuridici di cui parlerò sono quelli analizzati dagli autori del volume mentre è mia la responsabilità delle considerazioni in chiave comparata e di sintesi una premessa abbiamo scelto al tempo della ricerca per lo studio comparato in realtà dalla distinzione e dalle analogie tra le quali potesse emergere per un utile confronto che significa abbiamo diciamo deciso di tenere in considerazione ordinamenti di common law e di civil law al tempo stesso e la cui diciamo differenziazione emerge però sia per localizzazione geografica per conformazione territoriale anche per le caratteristiche del contesto politico abbiamo voluto presentare ordinamenti giuridici nei quali fossero presenti modelli di intervento diretto e modelli di intervento indiretto e abbiamo scelto diacronicamente esperienze che ci consentissero di seguire un'evoluzione quindi di analizzare alcune tendenze chiaramente la mia relazione di oggi non ha lo scopo di individuare il modello perfetto di intervento in questo settore probabilmente poiché questo modello non esiste il mio contributo mira piuttosto diciamo ad analizzare le soluzioni e se vogliamo sollevare una discussione sulle possibili interrelazioni e scelte nell'ambito del quadro regolatorio tra i regimi inizio diciamo l'analisi dei regimi che abbiamo preso in considerazione e che sono quello francese quello britannico quello tedesco quello statunitense quello australiano e quello cileno e tra i regimi presi in considerazione c'era certamente quello francese è per molti versi il più vicino all'esperienza italiana i quattro quinti della rete francese sono affidati in concessione a 19 concessionari privati e due pubblici in quanto rientranti nell'ambito delle strade nazionali le autostrade appartengono allo Stato l'autorità di gestione sotto il profilo politico amministrativo è il ministero responsabile dei trasporti non tutti i concessionari sono sottoposti allo stesso regime abbiamo due tipologie di concessioni quelle storiche concluse negli anni a partire diciamo dagli anni 60 del secolo scorso e quelle più recenti e questi due modelli presentano delle differenziazioni sostanziali nel senso che le commissioni stipulate a partire dagli anni 2000 proprio in un'ottica di maggiore apertura del settore hanno in verità un'ampiezza e una finalità più limitata se noi consideriamo il provvedimento concessorio ma si accompagnano a due convenzioni una convenzione di concessione che contiene il contratto di delega di un pubblico servizio e un accordo tariffario la convenzione di concessione e l'accordo tariffario fissano le condizioni per lo svolgimento delle opere previste nella concessione entrambi sono approvati dal consiglio di stato in caso di partecipazione delle collettività locali al finanziamento il caillet de charge scusate l'accordo tariffario regola anche il meccanismo di ripartizione finanziaria quindi diciamo se inizialmente in quella che può essere proprio chiamata come un modello concessorio francese il pedaggio veniva fissato in via autoritativa nell'ambito del provvedimento concessorio oggi nelle nuove concessioni è negoziato sia nella convenzione di delegazione sia in particolar modo nel caillet de charge in quale senso questo diciamo ordinamento entra in crisi e quali sono gli elementi di frizione di questo sistema nel tempo si inizia a verificare diciamo un notevole aumento tariffario del pedaggio anche a causa delle inversioni di previsione del traffico che sembrano ridurre i proventi delle concessionarie e diciamo si affianca a questo la necessità di sviluppo della rete che costringe le autorità centrali a continue proroghe in francia si arriva fino a 70 90 anni e di solito si parla di termine iniziale della concessione come già ad anticiparsi che questo termine è proprio la prima scadenza poi semmai ne seguiranno altre di questo modello quindi diciamo è opportuno segnalare la capacità di resistenza al cambiamento e l'immobilità ciò che cambia è la natura giuridica dei soggetti nel senso che il governo gioca prima con soggetti semipubblici poi privatizzandoli poi rinazionalizzandoli infine riprivatizzandoli e poi richiedendogli di riunirsi in gruppi ma la concessione in quanto tale non viene praticamente mai messa in discussione come risultato si crea un rapporto di interdipendenza tra il governo francese e i concessionari che vede diciamo nella crudezza diciamo delle vicende che lo contraddistinguono una forte capacità contrattuale dei concessionari i quali reagiscono diciamo alle proposte di rinnovo della platea dei concessionari secondo le forme più varie dalla DOSMAN che è sostanzialmente la richiesta di proroga per creare nuove tratte autostradali all'anticipation che è diciamo il dare esecuzione al contratto non aspettando l'approvazione del Consiglio di Stato a proposte più costruttive i pacchetti verdi quindi diciamo prolunghiamo la concessione ma faccio un'autostrada verde ai plan de relance cosiddetti il governo reagisce prevalentemente negli ultimi anni preoccupato diciamo dall'ondata europea e spinto dai regolatori indipendenti corte dei conti e autorità della concorrenza denunciano lo squilibrio contrattuale e il governo diciamo nei suoi proclami reagisce in due modi segnala la necessità di riforma il fole gifere minaccia il riscatto delle concessioni ma fondamentalmente il principale esito a cui si giunge la costituzione di un'autorità di regolazione del settore all'opposto della Francia sia per le scelte sia per gli esiti collochiamo il caso tedesco la Germania ha rappresentato sinora il paradigma dell'intervento diretto nel settore la gestione diretta ha portato ad una delle reti più sviluppate al mondo ma dobbiamo comunque introdurre delle chiavi di lettura di questo modello una prima chiave di lettura è la seguente il risultato certamente non è da attribuire solo a formula organizzativa ma anche alla centralità della rete autostradale tedesca e alle forti disponibilità finanziarie e sebbene le autorità tedesche siano beni pubblici di proprietà dello Stato scusate dello Stato federale secondo quanto stabilito dalla Costituzione tedesca le funzioni amministrative sono conferite ai lender che ricorrono generalmente attraverso l'appalto di lavori e quindi sono competenti autorità amministrative locali ecco quella della suddivisione di competenze tra l'enda e Stato federale è un'altra delle chiavi di lettura del regime tedesco vi è da un lato un interesse dello Stato federale a mantenere sotto controllo l'attività dell'enda d'altro canto ne è il principale finanziatore questo aspetto si riflette chiaramente nella programmazione che è fortemente centralizzata attraverso passaggi e fasi di cui non vi so a dire per mancanza di tempo ma che per i quali posso rinviare a una relazione scritta così come al libro e diciamo anche su questo sistema a partire dagli anni 50 si innesta un problema finanziario che porta diciamo a una revisione parziale del sistema che è ancora una tendenza se l'amministrazione diretta è tuttora la soluzione più accreditata tuttavia diciamo sotto le pressioni del finanziamento in una prima fase si istituisce una società pubblica di finanziamento ma in una seconda fase diciamo si iniziano a sperimentare forme di partnership pubblico privata ed è significativo che nel farlo l'ordinamento giuridico tedesco guardi all'esperienza statunitense e anglosassone e quindi diciamo si avvia un'introduzione di contratti concessori secondo modelli differenziati alcuni modelli si avvicinano molto di più al modello concessorio della costruzione di un rapporto trilatero in cui è centrale diciamo l'elemento dell'addossamento del rischio e il pagamento di un pedaggio da parte dell'utente altri modelli realizzano forme più blande di partenariato pubblico privato cos'è però che diciamo rimane costante in tutti questi qualsiasi sia il modello scelto è forte e centrale la presenza dell'amministrazione che pianifica vigila e controlla si inizia con l'analisi costi benefici e con la delibera sull'avvio del modello e si prosegue poi con diciamo le verifiche in ordine all'efficacia ora chiaramente qui parliamo di tendenze non parliamo di una di una realtà ancora strutturata ma certamente è significativa la direzione e un altro elemento significativo è il rapporto tra la presenza del regolatore pubblico e gli iniziali appunto concessionari se la Germania riecheggia l'esperienza statunitense è curioso che quando gli Stati Uniti pensano al sistema autostradale pensano a quello che ha fatto la Germania e quindi diciamo costruiscono un modello diciamo di intervento in cui prevalentemente il finanziamento è statale e deriva dalla questa è una particolarità dalle accise diciamo sul carburante che consentono l'accesso gratuito all'infrastruttura scusate è gratuito in gran parte anche in Germania poi le modificazioni che sono intervenute stanno introducendo elementi di pedaggio per alto discusso in sede europea quindi diciamo senza dubbio il sistema nasce sulle forme dell'intervento diretto ma si trasforma poi per effetto del gioco di relazioni tra i livelli interistituzionali di governo presenti nell'ambito dell'ordinamento giuridico statunitense e quindi anche in questo caso l'intreccio di competenze porta una vivacità di dialogo nell'ambito del sistema in che senso diciamo quando si sviluppa la rete autostadale statunitense è rimessa al singolo stato la proposta di realizzazione di nuove infrastrutture ma poi le linee fondamentali per la realizzazione di queste infrastrutture sono dettate nei project agreement accordi interistituzionali questa volta diciamo stipulati tra l'amministrazione federale e le amministrazioni statali negli ultimi anni la pervasività l'incidenza la pervasività delle direttive federali sui project agreement provocano un desiderio dei singoli stati di fuga dalla macchina federale e diciamo lo strumento attraverso il quale realizzare questa fuga porta diciamo dall'intervento diretto alla scelta del modello e del modulo concessorio che si inizia quindi concessorio o di partnership pubblico privato poi vedremo diciamo che è molto difficile individuare una uniformità nell'ambito dei vari paesi e quindi diciamo le realizzazioni dei rapporti trovano vita attraverso schemi diversi design build design build finance design build finance operate maintain finance dai loro nomi si intuisce diciamo come sono regolate le diverse fasi e cosa può cambiare che poi è la forma di finanziamento dei progetti il ruolo delle banche l'allocazione dei rischi la vita del rapporto e le cause di estinzione e quindi diciamo si verifica una varietà assoluta nell'ambito dell'ordinamento statunitense sicuramente in ordine ai rischi sicuramente in ordine alla remunerazione poiché diciamo può esserci anche l'attribuzione del diritto di riscuotere un pedaggio così come di riscuotere un pedaggio ombra così come di essere remunerati sul risultato di particolare interesse se vogliamo le previsioni che riguarda l'avvicinarsi del momento finale della chiusura di questo rapporto nell'ambito della quale si introducono delle negoziazioni relative agli adempimenti che restano a carica dello Stato e a carico del concessionario la disciplina può essere frequentemente rivista adattandosi diciamo al contesto il regime britannico è di particolare interesse soprattutto per la valutazione dell'integrazione tra pubblico e privato diciamo anche in questo caso vi è un regime concessorio di partnership pubblico privato che deve essere letta proprio nella storia dell'intervento amministrativo anche se vogliamo nell'esperienza inglese deriva dalla partnership scusate dalla private finance initiative lanciata nel 1992 che è un più ampio diciamo progetto di rilettura di intervento pubblico sicuramente le decisioni di sviluppo la progettazione dell'infrastruttura sono fasi che sono altamente centralizzate nelle quali il tesoro esercita un potere molto forte una forma di controllo molto forte ma poi il rapporto si diciamo il regime autostadale si declina anche qui attraverso forme di partnership pubblico privata simili a quelle analizzate per gli Stati Uniti e appunto con formule simili design build finance operate build on operate and transfer non ve le ripeto ma diciamo il punto fondamentale è capire che vi sono diverse possibilità di scelta si è rimessa al contratto la disciplina delle condizioni del rapporto ciò avviene però nell'ambito di standard contrattuali fissati dal ministero quindi anche qui noi abbiamo diciamo iniziali delibere provvedimentali standard fissati dal ministero e la declinazione di un rapporto contrattuale e quindi e anche in questo caso abbiamo possibilità di un rapporto trilatero con pedaggio rischio via dicendo e possibilità anche di diciamo partnership più differenziate e quindi l'esperienza inglese ci dimostra come le prerogative pubbliche possono rimanere elevate anche nell'ambito di un rapporto concessorio che si svolge secondo un gioco di forze che sembrano relativamente equilibrate alla richiesta di modifiche contrattuali da parte pubblica il privato può rispondere con richieste di corrispettivi aggiuntivi ovvero di variazione dei termini di adempimento e quindi si crea comunque un dialogo è chiaro che ad evitare eccessi di parte privata e strategie volte all'aumento del profitto si registra una tendenza a limitare le modifiche contrattuali e a utilizzare prevalentemente il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi anche in questo caso scusate come in quello statunitense comunque l'individuazione del concessionario segue procedure competitive veniamo molto molto rapidamente alle altre due esperienze la realtà che ha fatto del sistema concessorio una vera e propria bandiera un simbolo di best practice si trova in un altro emisfero e in un altro continente e non lascia diciamo anzi si trovano entrambe forse in un altro emisfero e in un altro continente e non lasciano diciamo quasi spazio almeno la prima la gestione diretta si tratta del Cile nel primo caso paese che per attrattività di capitali privati e risultati in termini di gestione e di sviluppo rappresenta uno dei migliori esempi mondiali la regolamentazione delle concessioni in questo paese è stata riformata più volte l'iniziativa muove dall'alto quindi fortemente centralizzata così come l'avvio delle procedure competitive di scelta del contraente spetta al ministero dei lavori pubblici sia la progettazione delle opere sia il controllo sulla loro gestione ed è affiancato però per la parte relativa alle concessioni da un'autorità di regolazione indipendente la regolazione del rapporto concessorio diciamo dimostra o dà idea di una strutturazione che realizza un adeguato bilanciamento tra interessi pubblici e interessi privati ma non solo largo spazio è dato nell'ambito dell'ordinamento giuridico cileno alla tutela alla regolazione della tutela dell'utente vengo all'ultimo esempio per poi andare diciamo alle considerazioni generali il bilanciamento tra la componente pubblica e quella privata in Australia inizia in verità già dalla fase della programmazione questo era venuto anche in altri ordinamenti ci sono proposte cosiddette sollecitate anche negli Stati Uniti e diciamo si ripete in Australia e segue l'avvio e l'intera durata del rapporto concessorio nella pianificazione delle opere infatti in Australia un'agenzia federale discute con operatori del settore privato in verità non gli stessi concessionari ma consorsi formati anche da professionisti scusate che vengono dal mondo bancario e finanziario e l'agenzia filtra progetti solicited e non svolge un ruolo di raccordo tra i livelli di governo sub federale e federale e tra le diverse componenti pubblica e privata e definisce anche i rapporti concessori quindi diciamo è significativo che in questo caso nell'iniziativa in relazione alle infrastrutture strategiche si avvia anche diciamo una certa forma di dialogo la scelta del concessionario segue limitate procedure di evidenza pubblica che entrano diciamo in gioco appunto nelle diverse fasi di consultazione anche qui si arriva si giunge alla stipula di un di un contratto accessivo alla concessione è significativo di questa esperienza e poi vado alle conclusioni che diciamo tra le condizioni da negoziare c'è anche diciamo quella del rischio e che nell'ambito delle negoziazioni il riferimento di parametro contrattuale o di condizioni contrattuali sia dato dalle national public private partnership guidelines quindi diciamo linee guida diciamo vigenti in materia principi commerciali fondamentalmente ed è significativo che al concessionario in crisi sia lasciata la scelta di indicare il possibile sub concessionario che possa portare avanti il rapporto quindi diciamo un esempio di forte bilanciamento tra componente pubblica e privata anche nel momento di crisi la Francia reagisce alle crisi nazionalizzando ricordiamo giusto per fare un esercizio comparatistico veniamo quindi diciamo a individuare intanto alcune caratteristiche di strutturazione di questo mercato allora chiaramente in relazione a esperienze studiate il finanziamento dell'opera e i rischi connessi al recupero dell'investimento anche se non ho potuto esprimerlo diciamo bene nel tempo che mi è stato dato sono le principali direttrici fondanti la scelta dell'intervento nel settore i principali modelli si esprimono attraverso intervento indiretto e intervento diretto quale che sia diciamo il regime prescelto comunque si immagina che al finanziamento corrisponde alla natura giuridica dell'ente finanziatore corrisponde la natura giuridica di colui che realizza l'opera e di colui che la gestisce in verità non è così nelle diverse esperienze nel senso che abbiamo trovato moduli differenti anche forme di finanziamento pubblico anche nell'ambito di schemi concessorio di partnership ecco quindi diciamo c'è una varietà grande di possibilità tra le quali muoversi se per un verso la realizzazione indiretta tramite affidamento dell'opera al recupero dell'investimento svolto dal privato segna la distinzione in questi regimi del settore autostradale rispetto al settore diciamo generale delle opere pubbliche dall'altro verso avvicina dal settore autostradale a quello appunto attrae la formula autostradale nel campo scusate della gestione dei pubblici servizi e questa è una prima diciamo notazione che vorrei qui rilevare poiché diciamo a differenza di altri settori a rete in questo caso nel settore autostradale ha diciamo avuto un ruolo fondamentale la possibile assenza di distinzione tra colui che realizza l'opera e colui che la gestisce e non lo voglio diciamo sottolineare perché non debba esservi questa distinzione ciò che diciamo non va sottovalutato è che pur nell'assenza di un'intermediazione tra operatori e costruttori e i loro fruitori questi ultimi rappresentano gli utenti finali di un servizio quale quello autostradale di cui che deve essere valutato in relazione a due profili efficienza e costo dove questo aspetto non sia adeguatamente considerato si rischia di perdere di vista la specificità di questo mercato e quindi di non ricostruirne completamente il necessario assetto regolatorio ragionando su efficienza e su diciamo su efficienza e su risultati influiscono su questo molte variabili molte delle quali sono esterne allo stesso rapporto regolatorio pensiamo diciamo alle variazioni nell'intensità del traffico alle variazioni nei prezzi dei camburanti e via dicendo e quindi diciamo questo richiede naturalmente che il rapporto possa essere in qualche modo rivisto poi vedremo in che modo inoltre diciamo i i coloro che sono operatori in questo settore generalmente hanno o possono avere interessi frequentemente possibilmente allineati e quindi diciamo si può realizzare una coalizione di interessi rispetto alla quale è importante comunque anche valutare l'altra l'altra faccia che appunto è la tutela degli utenti e quindi diciamo se noi consideriamo che dall'evoluzione che abbiamo analizzato nei diversi paesi abbiamo visto che più o meno vi è una tendenza ad andare verso fondamentalmente un rapporto tra pubblico e privato che si esprime attraverso fondamentalmente uno strumento che è la concessione è chiaro che è questa concessione quale che sia il modulo prescelto il principale strumento di regolazione del settore e questo emergerebbe anche diciamo nell'ambito il strumento di regolazione del settore intendendo in quanto tale una concessione nell'ambito della quale sia prevista la regolazione della vita della concessione oltre che dell'origine della concessione e della scelta del concessionario e quindi diciamo rispetto a queste indicazioni l'attenzione del legislatore europeo si è concentrata sulla fase iniziale assumendo sicuramente l'interesse al mercato delle concessioni ma se noi guardiamo il settore autostradale si assume in questo modo una sorta di valore catartico delle gare momento iniziale diciamo di collo di bottiglia in tutta la sua forza e si perde di vista diciamo quello che è lo svolgimento e lo sviluppo del rapporto tra amministrazioni amministratori e gestori di autostrada e si sposta diciamo il baricento del problema all'origine del rapporto concessorio dal provvedimento amministrativo alla fattispecie contrattuale e allora volendo diciamo lavorare sulla concessione come appunto principale strumento una prima notazione che posso fare ulteriore rispetto diciamo alla quindi una seconda notazione scuotale la prima è quella evolutiva ma una seconda notazione comparata tra i diversi ordinamenti è costituita dal fatto dalla rilevanza del dialogo interostituzionale che si verifica e tra livelli di governo che si verifica nei tre ordinamenti australiano statunitense e tedesco che ha portato sicuramente ad un disegno concessorio ma che ha anche agito bilanciando i diversi rapporti di forza tra amministrazione centrale e concessionaria e quindi costituendo un terzo polo che porta probabilmente a un maggior bilanciamento nel rapporto di forza e altra notazione che tutto quello che io di cui vi ho parlato sia una concessione e quale sia questo modello concessorio a cui facciamo riferimento diciamo mi mette un po' in difficoltà come diciamo non direi ecco che c'è un'unitarietà di modello c'è però una decisione unilaterale dalla quale seguono rapporti bilaterali e in questi o trilaterali diciamo ma comunque in relazione alla concessione bilaterale e diciamo in questo si deve misurare quindi il binomio tra pubblico e privato che si esprime all'interno di questo modello fondamentalmente vive fasi autoritative e fasi contrattuali fasi autoritative e fasi negoziali e abbiamo visto che diciamo brilla il modello francese per la sua immobilità e a fronte di una varietà diciamo di soluzioni anche in termini di flessibilità che abbiamo analizzato negli altri ordinamenti giuridici e che sono tutte diciamo varietà che non giocano tanto sul momento di scelta del concessionario giocano nella fase costitutiva sulla scelta del tipo di contratto o convenzione o quello che sia e giocano poi sulla vita del rapporto e quindi diciamo se è forse opportuno dalle scelte iniziali spostare con nel quadro regolatorio mi prendo lo spazio della persona che non è venuta a fare la relazione quindi parlo dico due cose sulla regolazione e diciamo possiamo spostare l'attenzione sulla vita diciamo del rapporto e quindi sulla parte della regolazione che si deve rivolgere appunto ad un rapporto di durata questo dobbiamo immaginare e quindi spostarci dall'analisi dell'atto e provvedimento iniziale quindi a questa fase inizialmente autoritativa invece a come nel corso della vita del rapporto si possono modulare la fase autoritativa con la fase negoziale e qui ancora diciamo abbiamo varietà poiché abbiamo la Francia che dice il foleggifere abbiamo guidelines abbiamo riforme abbiamo atti regolatori abbiamo discipline ma è certamente nell'ambito del rapporto e quindi è certamente sul rapporto che nasce da questo contratto di durata e sulle sue possibili trasformazioni a fronte di un universo intorno che si trasforma che occorre lavorale è in questa fase che si misura la capacità di attrarre capitali privati perché perché sulle scelte in merito pesano la stabilità del rapporto la certezza del diritto ma dall'altra parte l'esigenza di realizzare un quadro efficiente grazie grazie anche alla professoressa Conticelli che alla fine si è un po' spaventati pronunciandoci che si sarebbe presa la mezz'ora mi prendevo lo spazio concettuale non temporale in realtà anche lei rispettato scrupolosamente i tempi con qualche giustificato aggiustamento per parlarci di situazioni effettivamente molto interessanti mi pare anche che ci sia una condivisione tra i relatori se non azzardo troppo nell'idea che naturalmente sappiamo abbiamo capito che nell'ottica del diritto dell'unione il momento iniziale e la durata sono dei poli ineliminabili e quindi certamente questo è un elemento importantissimo però se vogliamo parlare non solo di problemi di concorrenza ma anche di problemi di funzionamento di gestione di efficacia del servizio pubblico certamente l'attenzione va poi spostata chiunque sia il gestore sui concetti di base della regolazione della gestione nella sua durata qui probabilmente il diritto dell'unione europea ci aiuta di meno perché qui sono più situazioni che si radicano nei territori nazionali anche se poi alla fine l'efficienza del servizio pubblico complessivo di autostrada può tornare ad essere un problema di diritto dell'unione europea bene allora adesso apriamo il dibattito abbiamo qualche tempo per dibattere e mi viene richiesto di comunicare che per il pomeriggio iniziamo alle 14 e 45 quindi anticipando credo un quarto d'ora posticipando scusate posticipando di un quarto d'ora l'orario ufficiale detto questo abbiamo una mezz'ora abbondante per il per il dibattito e quindi chiedo a chi desideri intervenire di segnalarsi in qualche modo ecco prego io naturalmente non conosco tutti i nomi come vogliamo fare abbiamo un microfono che gira eccolo qua allora allora ok buongiorno sono l'avvocato Taddeo tanto ringrazio i relatori per l'alto profilo accademico con cui è stata trattata la materia io vorrei fare una domanda da sbadilante del diritto quindi mi perdonerete se da un punto di vista accademico non sono così preparato allora io ho avuto la fortuna negli anni scorsi di poter vivere la realizzazione di tre infrastrutture strategiche da 2011 a 2014 l'atto concedente due autostrade realizzate in concessione da concessione di autostradali lombarde e poi dal 2014 al 2015 una metropolitana la metropolitana 4 lavorando per Salini in Pregilo in entrambi i casi quello che mi è balzato all'occhio che poi all'atto pratico chi realizza chiede sostanzialmente che il rapporto concessorio sia invece vissuto nella sostanza con una vera e propria accessione e questo ha una portata poi non meramente nominalistica ma sostanziale c'è la differenza tra concessione e accessione come è noto comporta che il concedente nel primo caso si faccia meramente da parte ma resti un coprotagonista sulla scena e la accessione invece proprio per l'etimologia che hanno le due parole nella cessione invece il cedente viene meno completamente allora mi chiedo siccome nelle concessioni autostradali ed è stato ben evidenziato quello che è l'oggetto non è semplicemente l'affidamento a un altro soggetto di un bene di un servizio perché ne goda dei frutti ma è l'esercizio vero e proprio di una quota di sovranità tant'è vero che il concessionario nella fase di realizzazione è l'autorità espropriante nella fase di gestione se deve andare a recuperare un credito per un mancato pedaggio non va a fare un decreto ingiuntivo ma fai mettere una cartella esattoriale quindi in una situazione del genere è possibile domando che nella Repubblica italiana dove ancora grazie a Dio vige l'articolo 1,2 per cui la sovranità appartiene al popolo e non a chi gestisce l'economia ci possa essere una cessione autostradale anziché una concessione naturalmente alla fine daremo la parola ai relatori per la quota di risposte che ciascuno vorrà dare ecco quindi non non chiederei una risposta in questo momento chi altri prego lo studio del ai ai è oggetto di un limitato affidamento neanche di una concessione buongiorno io sono Gabriele Pisanti e sono attualmente un dottorando di ricerca presso l'università di Tor Vergata ho avuto anche modo di lavorare presso Autostrade per l'Italia proprio nell'ufficio affari regolatori e concessori e volevo chiedere ai professori poi chi chi se la sente mi risponderà proprio diciamo su questo accordo che si sta ponendo in luce per quanto riguarda la durata perché la durata se ricordo bene credo sarà fissata in 30 anni e come voi saprete la durata di una concessione autostradale è spesso uno dei temi più delicati io se ricordo bene il ministero dei trasporti ha chiesto al consiglio di stato nel suo parere che recentemente è stato pubblicato proprio diciamo a riguardo se la durata fosse corretta e anche alla luce del fatto come diceva il professor Saltari che l'autostrada del Brennero ha un'estensione chilometrica maggiore anche del chilometraggio disposto dall'ART che varia tra i 180 e i 315 di sviluppo ottimale cioè l'ART tra i 180 chilometri e i 315 chilometri ha fissato il limite per la quale il gestore in questo caso privato ha la giusta remunerazione oltre il quale o sotto il quale questo non avviene e quindi se a livello giuridico secondo voi è giustificato questo ampio periodo perché non ho trovato diciamo documentazione sulla razza di questo periodo così lungo grazie grazie altri interventi sono ammessi interventi anche di quelli che devono intervenire nel pomeriggio se hanno ricevuto nel mattino stimoli sufficienti e adeguati grazie sono un ex senatore che ha un po' collaborato negli ultimi vent'anni a queste norme sull'autobrenero e condivido molto le critiche fatte dal professor Saltari in ordine a questo atteggiamento anomalo della direzione generale perché normalmente come ha detto anche il professor Falcone c'è il principio della Lenda Blintheid del diritto comunitario in questo caso sulla governance dell'autostrada del Brenero hanno diciamo abbandonato questo principio volevo chiedere ai professori se questo requirement piuttosto strano non possa essere anche diciamo stato causato dal fatto che fa comodo allo stato italiano anche perché se io un'autostrada che non è mia ma degli enti locali grazie a questa imposizione subita da parte della commissione alla fine diciamo mi trovo a controllare una cosa che non è mia e quindi volevo chiedere se forse questa soluzione è stata influenzata anche dai soggetti che hanno interlocuito perché siccome l'interlocuzione avviene direttamente Roma e Buxelles e quelli che pagano il dazio non ci sono solo indirettamente se non può essere questo anche uno dei motivi di questa diciamo tesi abbastanza stravagante della commissione grazie forse ci ricordiamo che a un certo punto una certa lettera forse della banca centrale europea ha chiesto la riforma delle province che era forse desiderata più in patria che a livello dell'unione quindi ma non voglio rispondere altri interventi in assenza allora do la parola ai relatori facciamo l'ordine inverso forse a quello che abbiamo seguito nella relazione per rispondere alle domande e anche se credono dato che abbiamo grosso modo otto minuti per ciascuno per integrare se credono quello che hanno detto magari sacrificando qualcosa per i tempi ristretti quindi prego professoressa Conticelli in verità diciamo sulle domande non ho particolari rilievi da fare non essendomi concentrata soprattutto sul diciamo sul recente accordo quello che posso dire è che non so se sia risultato chiaro è che emerge dal quadro comparato una necessità di consentire forme di differenziazioni non solo tra paesi ma anche all'interno dello stesso paese e quindi diciamo è una differenziazione che si può svolgere a più livelli e che potrebbe diciamo influire sulla proprio sulla sui risultati ecco se ne parlava in relazione proprio a questo recente diciamo alle recenti modifiche normative che sono in discussione ma fondamentalmente nell'ambito dei singoli paesi vi sono non solo tra paesi ma nell'ambito dei singoli paesi non c'è un'unica forma ma più formule e non solo queste formule per mantenere secondo me diciamo veramente una regolazione efficace devono contemplare la possibilità di una negoziazione o comunque di un dialogo tra la parte concedente e la parte concessionaria passo io la parola direttamente che abbia moltissimo da aggiungere nel lato le mie competenze grazie dell'autogestione concessione e cessione con riferimento alla alla sovranità non so ecco devo dire che da questo punto di vista tutto sommato mi sembra che siamo in un regime di concessione ancora correttamente identificabile come tale rischia di diventare cessione e lì si pone un problema delicato proprio per l'ordinamento italiano adesso sulle autostrade forse il tema è ancora da verificare però con altri regimi concessori penso a tutto il regime dell'idroelettrico ad esempio tutto il regime dell'idroelettrico che ha generato questo fenomeno delle proroghe delle concessioni che ben conoscete che riguardano anche questa regione ma non soltanto questa regione e rispetto ai quali oltretutto vi è un conflitto molto esacerbato e molto importante tra il concessionario attuale e il potenziale candidato subentrante con riferimento al cosiddetto valore residuo della concessione che è un tema che si pone anche con riferimento all'autostrada evidentemente al momento dell'exit che cosa succede chi dovrà pagare cosa al concessionario esistente nella materia idroelettrica si è posto un tema che forse per l'autostrada si pone meno ma potrebbe porsi cioè quello dell'impatto che ha sulla determinazione del corrispettivo che il subentrante deve riconoscere al concessionario precedente la variazione tecnologica il mutamento tecnologico perché nella materia di concessioni idroelettriche il mutamento tecnologico può essere importante quindi c'è chi ha investito molto in infrastrutture di un certo tipo che dopo 50 anni 70 anni 80 anni dato il regime delle proroghe il concessionario entrante dice ma io voglio dire della chiesetta fatta vicino alla diga in montagna dove si riunivano la domenica le famiglie degli operai che lavorano alla diga evidentemente non me ne faccio niente perché sai che cosa ho questa cosa qua e da qua più o meno riesco a controllare l'ingresso dell'acqua l'uscita quanto produce e così via e quindi non ti voglio pagare niente e il concessionario che sta lì dice beh però io quella l'ho costruita è vero che sono valori ampiamente ammortizzati e quindi in teoria però insomma si è posto un tema di questo genere non riuscendo a trovare una formula il legislatore italiano non ha fatto che prorogare la concessione l'unica soluzione che ha trovato è quella della proroga che però ci mette in gravissima difficoltà con l'Unione Europea e con l'assetto della procedura di infrazione sulla questione dei 30 anni devo dire non so rispondere lì è un tema di immagino che il tema sia un po' quello del WAC anche qua in qualche modo cioè quindi della remunerazione del capitale medio ponderato e della valutazione se sia una durata giusta oppure no però mi arrendo questo è un tema che si pone anche qua in altre materie ad esempio quella dei diritti aeroportuali dove pure ci sono problemi di questo tipo e dove l'autorità di regolazione ENAC forse domani ART dovrà invece lotta per determinare questo tipo di formule confesso che invece a me mi sono distratto un attimo perché mi stavo annotando qualcos'altro riprendo dopo la questione dell'interlocuzione critica Roma Bruxelles peraltro non vorrei essere coinvolto direttamente quindi magari se non rispondo magari torno dopo ma insomma va bene allora intanto professor Saltari grazie scusa grazie allora provo a ripercorrere nell'ordine con cui sono state formulate le domande la prima dell'avvocato Taddeo anche qui proverei a fare un inquadramento di tipo storico nel settore delle concessioni autostradali abbiamo detto ho detto io che vi è un modello che prevale sugli altri che è quello dell'affidamento a una particolare società in pubblico comando che è società autostrade costruzioni e concessioni che è una società dell'iri questo affidamento molto probabilmente ma anzi sicuramente sottontendeva che cosa? che lo stato apparato cedeva allo stato capitalista la gestione integrale del settore dello sviluppo principale delle autostrade in Italia e quindi è nel come dire nel DNA del settore che vi sia un trasferimento sostanziale di responsabilità dal concedente al concessionario ora io comprendo la sua domanda il centro della sua domanda sta nel fatto che essendoci stata la privatizzazione del concessionario non si è poi corrispondentemente ribilanciato l'assetto perché quello era un momento nel quale il concedente avrebbe dovuto riappropriarsi delle capacità di come dire indirizzo attraverso gli strumenti della vigilanza del controllo eventualmente della sanzione nel caso in cui le obbligazioni convenzionali non fossero state realizzate quindi io come dire condivido una parte della considerazione che è sottesa nella sua domanda cioè la volontà dei concessionari di avere le mani libere però come dire non nasconderei non mi nasconderei l'altra parte della medaglia l'altra parte della luna cioè il fatto che chi dà le concessioni poi non si è saputo in vent'anni non in pochi anni in vent'anni attrezzare per avere nei confronti di questi soggetti che sono potentissimi perché come lei giustamente ricordava dal punto di vista del nostro diritto amministrativo sono organi pubblici indiretti dotati per esempio della facoltà espropriativa dei poteri della esecutorietà però capisce la responsabilità di quest'ordine di cose sta in parte nella testa dei concessionari ma secondo il mio modesto punto di vista in misura maggiore nella parte pubblica che non ha saputo reinterpretare il proprio ruolo a valle all'indomani della grandissima privatizzazione sulla domanda di Bisanti 30 anni 20 anni 40 anni forse potremmo utilizzare un meccanismo di cabala potrebbe essere più conveniente ma chi lo sa qual è la durata che effettivamente consenta la effettiva remunerazione adeguata diciamo che 30 anni è un tempo che non va guardato tanto agli investimenti da realizzare 30 anni sono una durata ragionevole per dare una stabilità aziendale bisognerebbe guardare più a questo poi se in 30 anni se quel tempo concesso non è sufficiente come ricordava benissimo il professor Condinanzi esiste l'istituto della corrisponzione del valore di subentro questo istituto è un connettivo è un legame è una connessione fondamentale tra una concessione e l'altra senza la quale si creerebbe si crea quella disfunzione gravissima per la quale nella fase marginale nella fase conclusiva della concessione i concessionali smettono di fare investimenti sempre Massimo ci ricordava una cosa interessantissima che questi calcoli sono difficili da fare perché non ci sono delle condizioni tecnologiche stabili nel settore dell'idroelettrico questo è più facilmente intuibile anche da chi non ha una competenza ingegneristica o tecnologa ma guardate anche nel settore delle autostrade in realtà vi potrebbero essere degli sviluppi per cui quello che è scritto nella convenzione sussunta nell'accordo di cui oggi parliamo è archeologia perché ormai si parla abbastanza diffusamente di questi modelli tecnologici evoluti delle smart road cioè queste autostrade che sono capaci di ricaricare nella loro percorrenza delle automobili che vanno a energia elettrica raccontava l'ingegner Sarmi in un seminario ad Astri della scorsa settimana che in Cina questo di cui parliamo esiste già non so in quale parte della Cina c'è un'autostrada percorrendo la quale l'auto elettrica si ricarica e allora è geniale questa strada quindi Svezia stanno facendo riferivo a questo racconto di Sarmi il che significa che molto probabilmente nel momento nel quale queste tecnologie queste possibilità saranno come dire più consolidate più accessibili bisognerà fare degli atti aggiuntivi delle revisioni delle convenzioni esistenti e quindi immaginare nuovi e cospicui investimenti che naturalmente avrebbero bisogno di tempi più lunghi però i tempi sono quelli della stabilità aziendale poi la concessione finisce si rifà un ragionamento circa il modo di affidamento della concessione che è andata in scadenza e il soggetto che si è sobbarcato degli investimenti come dire non è esposto al rischio di non avere un adeguato ritorno perché può ottenere il valore di subentro vengo alla domanda acuta e anche un po' maliziosa del senatore Zeller proverei allora io sono molto d'accordo con quello che dice Carl Zeller però la proverei a mettere come dire dentro una veste più accademica ricordando un altro libro che sta su questa scrivania che è un libro curato da Giacinto della Cananea e da Martina Conticelli che è qui presente che è un libro che si preoccupa di analizzare i procedimenti amministrativi europei composti questo non è un vero e proprio procedimento composto però un po' ricorda uno dei difetti che ci hanno alcuni procedimenti composti per i quali il diritto europeo dice che vi deve essere l'apertura del procedimento agli interessi che sono incisi da quel procedimento poi ci sono delle fasi del procedimento che sono sovranazionali in queste fasi sovranazionali dialogano amministrazioni europee e amministrazioni nazionali ma queste fasi normalmente sono chiuse alla partecipazione quindi è questa la ragione come dire di inquadramento teorico per il quale chi ha seguito la vicenda dell'attuazione del 13 bis non sa che cosa si sono detti durante le molteplici riunioni anche perché qui veramente chiedo a Massimo di darci invece un contributo a me ha veramente molto sorpreso che queste riunioni sono state molto frequenti ma totalmente rimesse alla informalità e alla oralità non c'era un ordine del giorno non c'era un verbale c'è un rappresentante dello Stato italiano ma appartenente al MIT quello che alla fine della fiera si vede caricato di poteri di intrusione dentro la gestione della 22 che raccontava che la DG Gro voleva che lo Stato controllasse di più e quindi magari era esattamente così che si sono svolte le cose noi non siamo in grado di la tua è una maliziosa congettura il fatto che tutto sia informalizzato che stia nella informalità che non ci siano verbali e che non ci sia un minimo di trasparenza se non addirittura di diritto di partecipazione perché forse il modo nel quale è stato raccontato il 13 bis era un po' condizionato anche da retaggi da vischiosità culturali di quel ministero forse chi ci aveva messo la testa da ultimo poteva raccontarlo in maniera diversa mi valgo della facoltà che ci ha concesso il presidente ma non per integrare una cosa della mia relazione per provare a rispondere a una domanda che molto garbatamente ha posto il professor Condinanzi il quale chiudeva mi pare la sua relazione dicendo ma voi avete voi stato legislatore italiano scritto questo 13 bis che ha un po' legato le mani della commissione non gli potevate dargli degli strumenti diversi in realtà sì certo si potevano immaginare delle soluzioni diverse che fossero in grado di perseguire lo stesso obiettivo che è implicito nel 13 bis tant'è vero e qui raccontiamo un piccolo aneddoto tant'è vero nelle ore concitate della conversione del decreto fiscale il MIT si è rappresentato in commissione o meglio nelle riunioni di maggioranza che precedono le riunioni della commissione del bilancio con un emendamento la cui struttura era la delega di funzione di concedente dallo Stato alle Regioni probabilmente all'Europa la delega di funzione sarebbe garbata di più perché gli avrebbe consentito di far funzionare il controllo analogo l'unica cosa che loro pensano sia utile per derogare la gara cioè dal loro punto di vista quello era la soluzione di tutti i problemi dilemmatici e il piccolo problema è che al MEF questa delega non garbava ma per una ragione non tanto concettuale ma per una ragione pratica perché se tu deleghi la funzione di concedente alle regioni saranno le regioni che avranno diritto a incamerare i canoni della concessione e la concessione costa almeno 580 milioni che vanno all'entrata del bilancio dello Stato punto per cui la delega di funzione è stata smontata pezzo per pezzo e tu te lo ricorderai perfettamente e si è come dire accantonata a quella soluzione e se ne è pensata un'altra grazie professor Saltari un'integrazione da parte del professor Condinanzi prima del buffet che sarà aperto alle 13 qui sotto nell'atrio del piano terga grazie grazie solo su questo tema del dialogo con l'Europa effettivamente qui cioè io credo che se bisognerebbe forse intervenire e riformare in qualche modo alcuni aspetti della 234 del 2012 che disciplini più opportunamente e con maggiore trasparenza questo meccanismo del dialogo con l'Europa perché altrimenti questo dialogo talvolta si presta delle strumentalizzazioni io me ne rendo perfettamente conto cioè è un modo di dire ormai cioè l'ha detto l'Europa no? è una roba ma dove? ti ha scritto? ti ha mandato un whatsapp? che succede? allora perché mentre nella fase ascendente l'Unione Europea è piuttosto formale nella fase ascendente cioè quando deve essere formato l'atto dell'Unione e partecipano le amministrazioni nazionali l'atto normativo intendo e partecipano le amministrazioni nazionali dando il loro contributo la Commissione Europea è molto attenta nel senso che predispone delle riunioni specifiche c'è un ordine del giorno specifico c'è una verbalizzazione viene fatto un sunto successivo di quali sono le posizioni dei diversi stati membri rappresentate dai loro rappresentanti permanenti o dai ministri o dai sottosegretari o dai funzionari e quindi c'è una formalizzazione molto precisa che consente anche poi di ricostruire la catena quello che invece non accade è esattamente l'inverso cioè nella fase discendente perché oggi il sistema in realtà non prevede molto anzi non prevede niente a leggere i testi lo Stato ha l'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione lo Stato faccia le sue scelte poi noi valuteremo abbiamo gli strumenti del 258 59 60 cioè la procedura di infrazione ce ne occuperemo in sede come dire punitiva repressiva eventualmente tranne nella materia degli aiuti di Stato dove c'è un meccanismo di notifica preventiva e così via quindi questo dicono i testi o dietro quello che dicono i testi c'è invece un mondo di relazioni che avvengono tra l'amministrazione nazionale e l'amministrazione comunitaria ma al di fuori di ogni regolamentazione scritta per cui il MIT sente i suoi referenti e va a dire la sua la dice aggiustata oppure no in funzione di un interesse insomma comunque non so immagino di no però potrebbe benissimo accadere non c'è nessun modo di verificarlo perché poi cosa fai dici no scusa dammi il telefono di quello con cui ho parlato che adesso chiamo a verificare evidentemente non funziona l'altra amministrazione farà un gioco di tipo diverso ma poi succede anche con gli interlocutori locali perché il senatore giustamente diceva il dialogo avviene tra Roma e Bruxelles ed è correttissimo però sappiamo bene che molto spesso in questo dialogo poi interferiscono perché la commissione se è una cosa che fa ascolta sempre tutti chiunque voglia andare a parlare con la commissione più o meno ci riesce stakeholder privati esponenti delle regioni dei comuni piuttosto che quindi esiste un continuo dialogo inespresso non relazionato non backuppato come si dice che però influisce sulla formazione della norma interna allora lì forse un po' di ordine nella gestione di questo dialogo quando ci sono specialmente posizioni conflittuali che vengono in rilievo farebbe bene ad esserci ad oggi però riconosco che non c'è grazie ancora ai tre relatori grazie a voi che siete intervenuti ci ritroviamo qui chi lo desidera alle 14.45 giù c'è il buffet nell'atrio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti